Le Alpe Puane rischiano l'estinzione. È un grido d'allarme a 60.000 voci, quello raccolto dai Comitati per la Difesa del Territorio Toscano, che hanno lanciato una petizione online per chiedere lo stop delle escavazioni del marmo sulle montagne attorno a Carrara. Petizione sottoscritta da un centinaio di nuove firme all'ora, mentre ogni anno milioni di camion portano via circa un milione e mezzo di tonnellate di materiale, quanto cioè ne basterebbe per lastricare un'autostrada a quattro corsie da Firenze a Stoccolma. Il piano paesaggistico, studiato dall'assessore regionale Anna Marson, prevedeva inizialmente una serie di limitazioni alle escavazioni, limitazioni che ora però vengono messe in discussione. Decisivo sarà dunque il voto in Consiglio regionale del primo luglio prossimo. Questa nostra iniziativa di oggi è anche intesa ad appoggiare quella parte, diciamo, delle istituzioni toscane che sembra muoversi per il meglio. Anche perché sostiene il Comitato il boom delle estrazioni non è andato di pari passo con un incremento dell'occupazione. Negli ultimi decenni l'escavazione è aumentata drammaticamente, si pensi che oggi si cava in un giorno quello che prima si cavava in tre mesi e siamo passati da 14.000 dipendenti diretti alle cave a, a quanto dice una recente tesi dell'Università di Firenze, a 614 addetti diretti nell'escavazione in tutte le apuane. Personale, che dicono i comitati, potrebbe essere riassorbito dal turismo di qualità che potrebbe svilupparsi sulle Alpi Apuane risanate.